Corrado Mananga, questa può essere per me l'intervista più facile o più difficile? Più facile perché io ti lascio parlare e tu per tre ore vai avanti tranquillamente. Più difficile perché? Perché per me tu sei un po' come Carmelo Bene. Io andai a vedere lo spettacolo di Carmelo Bene e dopo andai a cena con lui, no? E io gli dissi, vedi Carmelo, io del tuo spettacolo ho capito la metà, però è stato fantastico. Così quando tu parli, ti ho sentito, eccetera, no? Perché tu vai come un treno e hai tanti termini che andrebbero analizzati uno per uno. Quindi ho deciso di fare l'intervista difficile, quindi di cercare di capire perfettamente quello che dici. La prima domanda che ti faccio intanto è questa. Perché un ricercatore, cioè un ricercatore, uno studioso che insegna chimica all'università improvvisamente va a finire negli alieni, nella coscienza, nelle piramidi, nelle frequenze. Perché? Questa domanda mi ricorda un mio studente, che ora è diventato un ricercatore, in tesi di dottorato da noi, nel nostro laboratorio. Un giorno si fermò, mi guardò negli occhi e mi chiese Ma dottore, lei che è così bravo, così intelligente, così in grado di pubblicare lavori scientifici di grande levatura, ma come mai crede agli alieni? Che sono una stupidaggine, tra parentesi, diceva lui. E io dissi, beh, c'è qualcosa che non va, o sono matto prima o sono matto dopo. Cioè, sostanzialmente, se effettivamente te pensi che io sia una persona coerente, cosciente e consapevole, forse hai dei problemi tu a pensare che il problema degli alieni sia un problema inesistente. In realtà, io ho cominciato a interessarmi di questo problema da quando avevo 15 anni. Perché ho fatto un errore, forse un errore voluto. Ho letto la Bibbia. E una bellissima Bibbia che mio babbo aveva comprato a fascicoli, avevamo rilegato, in cinque volumi, tutta colorata. E io, non sapendo che fare, nei momenti di tempo, guardavo sta cosa e la leggevo. E mi è sembrato il più bel libro di fantascienza che io avessi mai letto. Da lì ho cominciato a farmi delle domande. Era il periodo in cui c'era in Italia Peter Colosimo, che aveva vinto il premio Bancarella, con i suoi libri che parlavano degli alieni, che avevano visitato questo pianeta. E allora io mi sono detto, ma se ci sono gli alieni, perché non li cerchiamo? Perché non chiediamo a loro, Dio esiste? Oh, e loro lo sapranno, sono più bravi, più belli, più ganzi, hanno la melanina. Invece di fare tutte delle ricerche che noi dovremmo rifare per chissà quanti migliaia di anni, chiediamogli a loro le cose che già lo sanno. E così, banalmente, mi iscrissi al Centro Ufologico Nazionale, che era l'unico gruppo di persone che allora, con una certa notorietà, si interessavano di questo fenomeno e cominciai a collaborare con loro. Non mi sarei mai aspettato che negli anni che venivano io avrei dovuto rivedere tutta quella che era la mia visione del mondo alieno. Sì, gli alieni esistevano, venivano su questo pianeta, non ci avrebbero mai aiutato perché si facevano i cavoli loro, sostanzialmente, e che noi, sostanzialmente, per loro eravamo come una grande stalla in cui tutti noi eravamo delle mucche da mungere. Questo era il risultato finale delle mie ricerche. Nel frattempo, io studiavo chimica e quindi implementavo le mie ricerche con quelle che erano il mio background. Quindi, quando mi invitarono al Secondo Congresso Nazionale di Ufologia a Cesano Maderno, nazionale e internazionale, io portai una ricerca scientifica, mentre gli altri parlavano di Ufo che vedevano durante la notte, io ne ho visti tre, io ne ho visti quattro, io ne ho visti cinque, erano fatti così, così e colà, io portai una ricerca sulla trasformata di Fourier applicata alla spettroscopia infrarossa e alla risonanza magnetica nucleare nella determinazione di tracce al suolo di oggetti volanti non identificati. La gente svenne. Perché in Italia non eravamo abituati a parlare di Ufo da un punto di vista scientifico, sì, da un punto di vista storico. Eh, nel 1950 ne abbiamo visti 25, nel 51 se ne sono passati 23. Ma chi se ne frega, dicevo io, vogliamo guardare dentro l'uovo di Pasqua, guardiamo la sorpresa, guardiamo cosa c'è dentro. E allora c'era l'idea che il fenomeno ufologico fosse un fenomeno solamente estetico. C'erano queste cose strane, che probabilmente erano delle macchine volanti, ma nessuno osava dire che dentro, siccome queste macchine si muovevano in modo intelligente, c'era qualcuno che le potesse pilotare. Perché quella era veramente qualche cosa di allucinante. Dire che c'è qualcuno che viene su questo pianeta e che abita da un'altra parte nel cosmo, mette in gioco tutta la politica internazionale immediatamente. Mette in gioco tutto quello che noi crediamo di sapere nell'ambito della religione. Mette in gioco la sicurezza nazionale. Quando uno è di fronte a una tecnologia, a una potenza così forte, i militari, come possono dire siamo in grado di difenderti quando questa cosa non è più possibile. Nel frattempo studiavo, mi sono laureato, con una tesi molto lunga, perché io ho lavorato almeno tre anni in tesi, e alla fine le persone che mi vedevano a volte andare in televisione a discutere di queste cose, le persone come i miei colleghi, il direttore del dipartimento, mi chiedevano ma perché tu ti interessi di queste cose che sono risibili? Mano a mano che passava il tempo, queste cose diventavano sempre meno risibili e i miei colleghi, i miei professori, cominciavano a chiedermi ma la ricerca come è andata? Avete scoperto qualcosa di nuovo? E io mi stavo accorgendo che tutto lo sforzo che facevo allora per cercare di far capire alla gente che questo era un problema da risolvere e che la gente su questo pianeta non aveva capito che 500.000 anni di storia erano su questo pianeta stati pilotati da altre entità che venivano da fuori, ecco, il riuscire a far capire alla gente che noi stavamo lavorando su un problema importante per me era un target da raggiungere, un obiettivo da raggiungere solamente in seguito. Avrei capito che tutti i miei sforzi erano stati sostanzialmente probabilmente vani perché sì, che spieghi alla gente guardate che ci sono gli alieni, vengono su questo pianeta, fanno delle cose, abbiamo scoperto perché, abbiamo scoperto come, abbiamo scoperto le collusioni che l'alieno ha con i nostri servizi segreti, con i capi del mondo. Ma i capi del mondo lo sanno che questi sono alieni, i servizi segreti lo sanno che questi sono alieni? Certo, lo sanno, ma non te lo dicono. Per esempio, il secondo reparto dell'aeronautica in Italia, banalmente, nel nostro piccolo, c'ha un gruppo di sparute persone che vengono sostanzialmente sostituite ogni sei mesi, se no sanno troppo, che si dovrebbero interessare del problema ufologico, che ora non si chiama più UFO, oggetto volante non identificato, un acronimo inglese, ma si chiama UAP, cioè qualcosa di ancora più vuoto di contenuti. Prima era un fenomeno ufologico, ora neanche più un fenomeno è. Sostanzialmente, tutte le fotografie, tutti i filmati, tutte le testimonianze, tutte le cicatrici che portano sul corpo le persone che hanno avuto a che fare con questi esseri, vengono misteriosamente bypassate, dimenticate, non guardate dai giornali che ne parlano solo per dimostrare che queste sono cose irrisibili. Ora, parlare dei giornali in questo momento è come sparare con un cannone su una farfalla, perché i giornali non sono più tali, i giornalisti non ci sono più, le vere informazioni non esistono più, ma siamo arrivati a un punto che è un punto di svolta, ma perché non capire, dico io, che attraverso lo studio della problematica ufologica si capirebbero molte cose sul perché la politica su questo pianeta sta andando in questa direzione. Il comprendere perché ci sono delle polarizzazioni su questo pianeta, russi e americani, per esempio, per farla semplice, ma non solo. Queste polarizzazioni storicamente perché ci sono? Che cosa veniva fuori dalla ricerca che noi avevamo fatto? Quali erano i mezzi con i quali noi facevamo questa ricerca? Erano forse mezzi irrisibili? Andavo da uno e gli chiedevo te hai mai visto un UFO? No, non è così. Non funziona così. Noi avevamo gente che si svegliava la mattina con delle cicatrici sul corpo che alla sera prima quando era andato a letto non aveva e si chiedeva ma come mai ho queste cicatrici? Noi facevamo delle analisi e scoprivamo che sotto queste cicatrici c'erano i segni di una evidente operazione chirurgica. L'analisi di queste persone in ambiente ipnotico mostrava il recupero di una memoria che queste persone avevano. Il recupero della memoria di tutti questi soggetti tutti era uguale. A un certo punto si è aperto il muro è entrato uno strano essere alto 2,40 metri con la coda sembrava un coccodrillone in piedi e degli esseri piccoletti neri con tre dita e il pollice opponibile il quarto con uno strano cattivo odore che hanno tentato io ero immobilizzato di prendermi di sollevarmi e di portarmi attraverso il muro fuori e fuori c'era una strana cosa una macchina rotante volante rotonda in cui io ero portato dentro e attraverso delle stanze ero posto su un tavolo un tavolo operatorio caratterizzato sempre dal fatto che c'era un solo piede che lo teneva il tavolo operatorio fatto così svasato tutti lo raccontavano nello stesso modo e lì accadeva qualcosa il soggetto veniva sostanzialmente operato chirurgicamente sì certo e poi noi trovevamo con la risonanza magnetica nucleare con varie spettroscopie fatte sul corpo le tracce di queste operazioni e le tracce dei microchip che venivano introdotti nel corpo di queste persone e le trovevamo sempre negli stessi posti per esempio vicino in fronte alla ghiandola pineale un aggeggino piccolo di due millimetri due millimetri e mezzo che veniva fatto entrare nel cranio passando attraverso lo sfenoide il soggetto ricordava sempre che uno di questi esserini piccoli aveva posto una pistola nella narice destra se sei destro sinistra se sei mancino e aveva sparato un proiettile che aveva rotto lo sfenoide e lo sfenoide sangue dal naso quindi più volte e questo sfenoide rotto aveva fatto passare questa piccola pallina che si era posta di fronte alla ghiandola pineale avevamo degli impianti per esempio di natura aliena posti sull'arco palatale in alto perché c'è un buco qui veramente uno spazio vuoto e i raggi X lo dimostravano chiaramente avevamo anche qui un piccolo segnettino che sembrava un taglio da vetro dove sotto c'era un piccolo microchip alcuni di questi microchip sono stati analizzati non in Italia chimicamente ma negli Stati Uniti da almeno cinque università diverse e quello che ne veniva fuori è che il materiale con cui erano stati costruiti questi oggetti aveva una percentuale isotopica differente da quella terrestre cosa vuol dire che nel nucleo degli elementi che costituivano questi aggegini c'erano un numero di neutroni diversi da quello terrestre sapete il neutrone è una pallina piccola diciamolo semplicemente per chi ci ascolta che non ha carica elettrica quindi è neutrale neutrone però ha una massa quindi pesa e quindi con opportune tecniche in questo caso la spettrometria di massa struttura fine noi andavamo a cercare quella cosa e trovevamo che c'era qualche cosa di differente dal materiale terrestre è una tecnica che si usa per analizzare le meteoriti le meteoriti vengono da fuori e hanno una percentuale isotopica differente degli elementi che le compongono nulla di più banale non esiste nessuna possibilità di poter alterare questa analisi queste analisi dimostravano senza ombra di dubbio che questa roba cioè i microchip che noi trovevamo nel corpo di queste persone venivano da fuori e di questo bisogna tenerne conto che cosa diceva la scienza ufficiale la scienza ufficiale e già dire scienza ufficiale è qualcosa di molto strano perché la scienza è scienza non c'è la scienza sotto ufficiale e la scienza ufficiale sì ma oggi ultimamente si parla molto di scienza ufficiale che è quella politica dettata dalla politica e dal potere economico e poi c'è la scienza è esattamente così che cambia sempre la scienza perché la scienza è in continua mutazione altrimenti noi ci cureremo ancora con le sanguisughe o facendo i salassi se fosse rimasta è proprio così come oggi con la situazione pandemica che viviamo anche allora la scienza ufficiale voleva negare l'evidenza e allora per esempio negli Stati Uniti avevamo un'associazione che si chiamava CISCOP che è come il CICAP italiano centro di studi sulle affermazioni del paranormale che io spesso gli ho detto ma invece di studiare le affermazioni sul paranormale perché non studiate il paranormale non ho mai avuto risposta il CISCOP americano rispondeva in questo modo c'era una signora per esempio un caso mi ricordo storicamente molto importante che si era trovata un microchip nell'alluce del piede sinistro e che era stato estratto dal dottor Leier negli Stati Uniti era stato analizzato e mostrava percentuale isotopica differente questo microchip era già stato trovato in altri casi analizzati dagli americani cosa dice il CISCOP no non è vero niente non c'è nessun microchip alieno la signora scendendo dal letto una mattina ha messo il piede su una micro meteorite che si trovava sul pavimento di casa che gli si è incistata nell'alluce ora questa cosa è assolutamente veramente poco credibile ma non c'era nessun'altra possibilità da parte della scienza ufficiale se non arrampicarsi sul vetro per dire state tranquilli gli alieni non ci sono perché perché se gli alieni ci sono bisogna rivedere qualche cosa bisogna rivedere qualche cosa sulla dualità del nostro pianeta ma allora chi ha ragione hanno ragione gli americani o hanno ragione i russi quale dei due modelli di vita e di politica è quello corretto basterebbe chiederlo agli alieni ma se gli alieni fossero comunisti gli americani si metterebbero le mani nei capelli e se gli alieni fossero estremamente consumatori allora i russi dall'altra parte come farebbero l'alieno non si presentava non si mostrava ma se si fosse mostrato sarebbe stato un macello per la politica italiana dire ve l'immaginate gli alieni che sono venuti su questo pianeta sono marxisti qualcuno ci ha scritto un libro in passato su questo argomento il vaticano tremerebbe come gli alieni marxisti e poi gli alieni ce l'hanno l'anima o non ce l'hanno perché nelle antiche scritture gli alieni sarebbero si potrebbero paragonare a quelle cose che gli antichi vedevano e che chiamavano angeli e nella bibbia c'è scritto che gli angeli non hanno anima gli uomini sono immortali ma gli angeli sono invidiosi degli uomini perché gli uomini hanno quella cosa che gli angeli non hanno e allora i racconti di abduction che comparivano su tutti i giornali a destra e a sinistra abduction vuol dire adduzione cioè rapimento alieno no kidnap come si potrebbe dire in americano cioè rapimento abduction è proprio il termine che si usa per dire sono venuti gli alieni e mi hanno preso per i loro scopi noi dovevamo capire quali erano gli scopi degli alieni innanzitutto no cioè cercare il movente e il movente si trovò guardando nella mente delle persone che erano state addotte cioè si utilizzò la ipnosi regressiva ericksoniana gli americani questa cosa l'avevano già fatta con Bud Hopkins a New York John Mack che era uno psichiatra molto importante che aveva scritto dei lavori aveva vinto anche un premio Pulitzer quindi non era l'ultimo arrivato in questi libri gli americani dicevano guardate che noi ci siamo trovati di fronte a queste persone che sono traumatizzate e il loro trauma è sempre lo stesso il loro sogno è sempre lo stesso c'è una specie di serpente con la faccia da coccodrillo che mi entra in camera alti due metri e quaranta accompagnati da questi piccoletti e poi non ci sono solo loro ci sono altre razze questi vengono mi prendono mi portano mi fanno delle cose io non ho capito che cose e poi in qualche modo io dimentico ricordo solo attraverso delle opportune sedute di ipnosi e attraverso queste sedute tutti raccontavano le stesse identiche cose centinaia di migliaia di persone cioè la statistica è una scienza vera quando si tratta di numeri alti noi in Italia abbiamo utilizzato le stesse tecniche dall'inizio che avevano usato gli americani cioè prendiamo degli ipnologi seri sul nostro territorio e facciamogli analizzare i nostri casi e così è successo all'inizio succedeva così e i racconti erano terrificanti ho capito ma perché facevano questi interventi chirurgici se dovevano soltanto mettere i microchip cosa andavano a cercare nel corpo umano il controllo del corpo umano il corpo umano doveva essere controllato perché innanzitutto bisognava conoscere l'esatta posizione del soggetto quando doveva essere ripreso quindi sono come dei piccoli trasponder dei piccoli gps alcuni di questi quindi un po è un po quello che viene fatto in natura quando tu metti un microchip a un animale per seguire le sue tracce vedere dove va cosa mangia eccetera perché noi siamo i loro animali ecco tu prima hai detto che lo scopo è degli alieni e di mungerci come vacche che cosa voglio qual è il latte nostro che vogliono? la cosa che si scoprì e che ci fece cascare la mascella fu la seguente io mi ricordo in una seduta di ipnosi perché poi noi lavoravamo con tre gruppi di ipnologi differenti e poi ci scambiavamo le figurine alla fine della settimana uno due lavoravano nel nord Italia io lavoravo nel centro Italia poi c'era gente che lavorava a Roma a Napoli e così via perché io avevo messo su una rete ovviamente di investigazione a livello di ipnosi regressiva e lavoravamo su tutti i casi italiani che ci apparivano mi ricordo in una di queste ipnosi il soggetto racconta di essere steso in una specie di cilindro fate conto una macchina come per la risonanza magnetica e in questo cilindro steso lui attraverso un oblò vede un altro cilindro però stavolta verticale con dentro uno strano liquido trasparente e dentro qualcosa cambia la scena e lui si trova in alto nella stanza e vede in basso e io pensando a quel punto che lui per un problema di pudore psicologico non volesse raccontare da dentro di sé cosa stesse succedendo allora avesse cercato in qualche modo di uscire dal corpo ma mentalmente non fisicamente come se quello che stesse succedendo non interessava a lui era come se fosse un oggetto ma io non c'entro niente invece le cose non andavano così lui descrive dall'alto e vede cosa c'è in alto dall'alto cosa vedi è ci sono io steso in un cilindro orizzontale dentro questa specie di bozzolo di metallo e accanto c'è un altro cilindro verticale con dentro un'altra cosa che è uguale a me come è uguale a te eh sì è uguale a me e poi ci sono questi strani esseri che fanno qualche cosa nella stanza e allora io pensando di fare delle domande di controllo come si fa in ipnosi è una tecnica gli chiedo chi sei eh io sono io come io sono io non ha senso guardati le mani i programmatori neurolinguistici sanno perfettamente a che cosa mi sto riferendo guardati le mani vuol dire guarda riprendi coscienza di te guardati le mani ma io non ho le mani non vedo le mani guardati il corpo ma io non ho corpo come ti chiami ma noi non abbiamo nome passa al plurale noi non abbiamo nome io so come si chiama lui quello lì quello steso nel cilindro ah sì e chi è lui è il mio contenitore io ci abito dentro ah sì e tu chi sei eh io sono una matrice di punti di luce cosa avrà voluto dire una matrice di punti di luce io mentre penso ma che cavolo di domanda gli faccio ora è come se questo mi leggesse nella testa e dopo un po' mi dice io mi posso vedere tu non mi puoi vedere io sono luce nella luce io sono la vita io sono la cosa che cercano loro quelli che si muovono in questa stanza perché io sono la vita e loro questa cosa non ce l'hanno io gli do l'energia loro vivono attraverso di me la mascella cadde per terra i miei colleghi che assistevano a questo tipo di ipnosi mi guardavano con l'amidriasi della pupilla fuori dagli occhi da lì cominciamo a comprendere che questa cosa che si ripete nel tempo centinaia di volte era il racconto di un istante dell'abduction l'istante in cui la tua parte animica che noi non sapevamo nemmeno che cosa fosse cioè l'anima sì chiamiamo l'anima è una convenzione è una cosa veniva staccata veniva portata all'interno di un altro cilindro dove c'era un altro essere umano che veniva fatto vivere perché quella cosa lì gli dava la vita poi questa cosa veniva ripresa e rimessa nel contenitore originale dove sarebbe stata ripresa la prossima volta loro vogliono quella cosa lì che noi abbiamo e che loro non hanno però capite bene che a questo punto noi diciamo un momento fermiamo la palla cerchiamo di capire che cos'è questa parte che parla che parlava dei massimi sistemi che diceva quando era nato l'universo come era fatto l'universo se la interrogavi appariva come una bambina a volte perché parlava al femminile come se lei avesse una consapevolezza e coscienza di sé femminile per farla breve si capì che all'interno del nostro contenitore ci sono tre cose vive che sono noi una parte animica il femminile una parte mentale l'essere androgino è una parte spirituale che è la parte maschile di sé queste tre parti divise erano la nostra coscienza all'inizio dei tempi erano unificate c'era una cosa sola poi qualcosa ha diviso la coscienza dell'essere umano e le ha separate in tre parti la parte maschile del sé la parte femminile e la parte androgina con tre coscienze diverse ognuna delle quali dentro un contenitore non sapeva dell'esistenza dell'altro e il contenitore che cosa sarebbe stato quello che i religiosi chiamano il tabernacolo della Santissima Trinità padre figlio e spirito santo altro non erano come anima mente e spirito e noi che cosa potevamo andare a dire agli scienziati guardate che abbiamo trovato l'essenza dell'anima non ci avrebbe creduto nessuno così abbiamo dovuto modellizzare questa cosa e descriverla sotto forma di vettori e di tensori anima mente e spirito sono cose che hanno a che fare col campo elettrico il campo magnetico il campo gravitazionale ma che hanno coscienza di sé e ognuna delle tre cose è come se fossero tre rematori su una barca e ognuno inconsapevole dell'altro in questo momento storico si vede chiaramente remano ognuno per i cavoli loro e allora noi abbiamo pensato all'alieno interessa solo una di queste parti la parte animica per quale motivo ed era semplice la risposta venne dalla stessa parte animica perché loro non hanno questa cosa loro non ce l'hanno loro sono invidiosi di noi perché noi siamo esseri completi questo era il discorso che veniva nelle migliaia di ipnosi fatte loro sono esseri incompleti in quell'istante mi si svelò anche un'altra cosa cioè i racconti che ci sono nel mito sono tutti così cos'è il mito? il mito è una fotografia che in un solo fotogramma contiene il passato il presente ed il futuro la differenza che c'è tra la storia e il mito è semplice la storia è storicistica cioè da un punto di vista scientifico la storia viene trattata in modo diverso a secondo di chi scrive i libri di storia se ci sono i comunisti a scrivere i libri di storia ci sarà un resoconto completamente diverso come se invece i libri di storia li scrivesero i non comunisti i fascisti c'è il detto che i vincitori scrivono il libro di storia dove loro sono i buoni e gli altri erano i cattivi cioè i cowboy erano i buoni i pelle rosse erano i cattivi per fare un esempio esatto e guardate che questa cosa politicamente noi la vediamo oggi no? perché noi andando a cercare all'interno della storia la realtà la verità delle cose studiamo il passato per comprendere il futuro e scopriamo che i nostri governanti non ci vogliono più far studiare la storia è nelle prossime leggi che il Movimento 5 Stelle propone ovviamente secondo quelle che erano le idee e le indicazioni di Licio Gelli capo della P2 di abolire lo studio della storia nelle scuole italiane ma perché? perché se si studia la storia si capisce come sono andate le cose tanto tempo fa e si capisce perché oggi le cose stanno andando in questo modo la storia era fondamentale per comprendere da dove veniamo bene chi comanda su questo pianeta non vuole che noi si sappia da dove veniamo perché? si potrebbe scoprire che noi siamo anima mente e spirito cioè siamo sostanzialmente i creatori dell'universo noi non lo sappiamo ma una volta eravamo una coscienza integra integrata una cosa sola la coscienza da sola non ha paura più di nessuno ma perché a questo punto l'alieno voleva la parte animica perché la parte animica aveva una caratteristica aveva era caratterizzata da un asse dello spazio da un asse dell'energia ma non da un asse del tempo cioè era sostanzialmente immortale indipendente indipendente dal tempo mentre la parte spirituale era indipendente dallo spazio e la parte mentale era indipendente dai valori di energia cosa vuol dire essere indipendente dall'asse del tempo vuol dire essere immortale si scopriva così che l'alieno prendeva questa parte perché aveva paura di morire noi avevamo dentro di noi la chiave il DNA della immortalità e in qualche modo non lo sapevamo e questo era ancora una volta scritto nel mito nel mito c'è quello che accadrà quello che è accaduto e quello che accade in questo istante in un solo fotogramma si legge quella che è la vera storia di questo pianeta da un punto di vista di fisica quantistica la fisica quantistica moderna dice che l'universo è non locale cioè non esiste nello spazio nel tempo nell'energia noi lo vediamo vediamo lo spazio il tempo e l'energia ma solo perché il nostro cervello è un lettore di ologrammi l'universo sarebbe un immenso ologramma e avremmo l'impressione di muoverci in questo ologramma ma senza ombra di dubbio alcuno gli esperimenti moderni di fisica dicono che non c'è lo spazio non c'è il tempo non c'è l'energia tutto accade in un unico istante anche se noi all'interno di questo scatolone che si chiama universo crediamo che esista il passato il presente il futuro l'alieno viene e ha paura di morire e ci prende quella parte per rigenerarsi e se non muore un po' come fanno vedete noi ci dobbiamo chiedere dobbiamo porci una domanda ammettiamo per un solo istante che io abbia azzeccato tutto che il mio modo di vedere le cose siano corrette che gli alieni effettivamente vengono su questo pianeta perché noi abbiamo quella cosa che loro vogliono e che loro non hanno e ci dobbiamo chiedere ma perché noi che abbiamo dentro di noi l'informazione della immortalità si muore perché se noi ci facciamo la domanda giusta allora avremo anche la risposta giusta e dentro la risposta giusta c'è la risoluzione del problema quello che veniva fuori interrogando la parte animica era che noi di tutte le persone che si sottoponevano a queste sedute di ipnosi per comprendere che cosa loro era successo quindi per acquisire consapevolezza di sé quello che veniva fuori è che noi siamo qui viviamo questa esperienza su questo piano fisico perché dobbiamo imparare una cosa l'unica cosa che la coscienza non sa che cosa è la dualità che cosa è la separazione che cosa vuol dire cominciare che cosa vuol dire finire quindi dobbiamo vivere una vita che darà colore alla nostra morte e decidere come morire per comprendere nell'istante in cui si accetta la morte come fenomeno fisico che la morte in questo universo non esiste e quindi e quindi c'è qualcuno che non avendo questa parte animica non ha l'hardware per comprendere questa cosa non c'ha l'hardware ha paura di morire perché la paura altro non è che quel fenomeno attraverso il quale si manifesta la separazione io ho paura di essere abbandonato cosa vuol dire vuol dire che io credo che una parte di me o qualcuno che mi sta vicino se ne vada questo vuol dire vivere la vita in un modo separativo non aver capito che l'altro sei sempre te tutti noi facciamo parte di una unica coscienza all'inizio dei tempi eravamo una cosa sola ci siamo divisi in miliardi miliardi e miliardi e miliardi di sottocoscienze per fare l'esperienza che ci manca l'unica esperienza che manca alla coscienza che è eterna è che cosa vuol dire essere eterno e l'unico modo per capire che cosa vuol dire essere unico non solo perché c'è una differenza tra unico e solo che è tremenda l'unico modo per capire che cosa vuol dire essere unico è dividersi in due e vedere l'altra parte di te che si è staccata da te e attraverso quella parte di te che si è staccata da te comprendere che ti sta facendo da specchio che te guardando l'altro capisci quello che di te non hai capito pensate noi crediamo che l'altro sia un altro crediamo che il presidente del consiglio sia brutto e cattivo è quella parte lì è quella parte di noi che noi non accettiamo di noi stessi e che ci si presenterà per forza di cose perché l'universo è fatto così in continuazione fino a che noi non abbiamo capito che non abbiamo più bisogno di questa pantomima di questa situation comedy di questa barzelletta negli istanti in cui noi abbiamo capito qual è la parte di noi che noi non accettiamo più le due coscienze che facevano parte di una unica coscienza e che si sono all'inizio del tempo separate si riuniscono si riuniranno e in quell'istante noi tutti in tutte le nostre coscienze si riunirà in un'unica cosa le tre parti di noi come una matriosca all'interno di noi anima, mente e spirito maschile, femminile e androgino si riuniranno in una unica coscienza in questo contesto noi abbiamo la possibilità di farlo perché noi abbiamo tutti i pezzi li dobbiamo rimettere insieme l'alieno no come c'è scritto nel mito l'angelo o il demone non hanno quella parte lì quella parte lì gli manca su questa modellizzazione di quello che stava succedendo ecco che l'alieno ci appare non più come un nemico che veniva a prenderci e farci le peggio torture ma ci appariva a questo punto come un povero disgraziato che non ha capito come si vive la vita che ha deciso di prendere la tua esperienza perché ha paura di fare la sua una cosa tremenda ma ci riesce cioè l'alieno che vuole da noi la parte animica riesce a portarcela via eh l'alieno riesce a portarcela via nell'istante in cui noi non abbiamo capito chi siamo nell'istante in cui noi abbiamo riacquisito la consapevolezza del perché siamo qui e abbiamo capito qual è il nostro problema da risolvere per l'alieno non c'è più tripa per gatti nell'istante in cui noi mettiamo in atto una procedura di comprensione per comprendere la fenomenologia aliena facciamo un favore a noi stessi perché tutta la vita rovinata da questa esperienza nascosta seppellita dentro di noi che noi non riusciamo a riportare a galla che ci distrugge tutta la vita in tutti i piccoli momenti della giornata non c'è più noi riacquisiamo la libertà non siamo più marionette non siamo più Pinocchio ma siamo il bambino vivo vero quello che è immortale quello che nella vera agnosi è quello che sarà il futuro l'esperienza dell'essere umano l'essere umano deve fare questa esperienza l'esperienza passa sempre da tre punti fondamentali il primo non ho capito niente sono felice ma sono totalmente cretino il secondo mi faccio una domanda sto male perché non ho la risposta terzo ho trovato la risposta e sono guarito dal primo punto al terzo punto sembra che non ci sia differenza stavo tranquillo e contento prima sono tranquillo e contento nel punto numero tre che differenza c'è? la consapevolezza la consapevolezza e la consapevolezza si può dimostrare si può misurare con delle formule della fisica questo perché l'entropia il secondo principio della termodinamica mi dà la possibilità di fare questo tipo di approccio facendo questo io faccio un favore anche all'alieno perché l'alieno non potrà più prendermi non potrà più usare il mio corpo per fare tutte quelle cose che fa lui tra le quali anche il rigenerarsi e cercare di avere figli perché capite bene che l'entropia è una legge che vale per tutti cioè quando tu più ti tendi ad allungarti la vita inesorabilmente sei costretto a diventare sterile e l'alieno è sterile quindi utilizza le fattrici come fattrici le femmine del nostro pianeta per fare quello che lui non sa fare cioè mettere al mondo dei figli quindi nascono dei figli alieni? nascono dei figli che vengono introdotti nell'apparato genitale femminile attraverso una serie di ricostruzioni ipnotiche che abbiamo fatto centinaia di volte anche lì il paragone lo sfondo di questo teatro è sempre lo stesso dopo due mesi e mezzo dalla inseminazione artificiale attraverso un'altra operazione di abduction viene tirata via questa blastula che viene introdotta dentro delle placenti artificiali che sono come delle provette di vetro e c'è una stanza grande che tutti descrivono la stanza dei cilindri di vetro chiaramente la provetta di vetro non cresce quindi quando la blastula cresce gli devono cambiare contenitore e tutti gli addotti descrivono in questa macchina volante che c'è una stanza piena di questi bottiglioni di vetro con dentro tutte le cose aliene che galleggiano e lì ci sono dei ricordi soprattutto del femminile la femmina che si trova stesa su questo strano questa poltrona gestatoria chiamiamola così da dove gli viene tirato via questa blastula piange si dispera perché gli hanno tolto qualcosa di suo un figlio qualcosa di suo che è anche mostruoso ma non ha importanza è qualcosa di suo l'istinto materno viene fuori a livello di ipnosi profonda in modo eclatante e mi faceva capire una cosa tremenda lo vuoi dire sì sì una cosa che noi maschi non possiamo provare perché il parto non fa parte dell'esperienza maschile lì si comprende veramente al di fuori di tutto cosa prova una donna a cui gli toglie il figlio e perché dico questo perché c'è una cosa interessante che riguarda proprio la tecnica dell'ipnosi l'ipnosi profonda e quella che utilizzavamo noi che era un'ipnosi ericksoniana mette in uno stato di coscienza alterata allargata il soggetto in quell'istante io che facevo gran parte dell'ipnosi sviluppavo un un entanglement un aggancio tra la persona che era lì e me e io vedevo un transfert si potrebbe dire così vedevo e pativo e sentivo esattamente tutte le cose che pativa vedeva e sentiva questa persona per questo io mi sono impadronito tecnicamente della vera sensazione che queste persone provavano come se l'avessi provata io cioè io facevo l'esperienza che diventava in comune con l'altra persona questo mi fa capire delle cose cioè dopo aver fatto più di 3.000 ipnosi sostanzialmente si capisce una cosa fondamentale tra le altre cose si capisce come fare l'esperienza e l'esperienza si fa in un modo solo facendola non sentirsela raccontare è un'altra cosa facendo l'esperienza cioè sostanzialmente la devi patire questa cosa la vita Corrado mi viene in mente che tu sul tuo sito hai una frase nel fare creiamo la nostra manifestazione ed osservandola ci ricordiamo chi siamo quindi il fare sì il fare è per questo che la nostra coscienza all'inizio subito dopo essersi divisa in due coscienze Shiva e Visnu sono le due creature delle due coscienze nel mito se vogliamo dire così quindi noi assistiamo in realtà a una doppia creazione a un doppio big bang come sostanzialmente sostiene anche Penrose che è un premio Nobel per la fisica quindi non è l'ultimo arrivato questa doppia creazione che rende l'universo a specchio c'è una parte buona e una parte cattiva nella dualità ma non ci sono i buoni e i cattivi ci sono le due parti che si specchiano tra di loro e che cercano di comprendere chi siamo solo estroiettando da noi l'altra parte che noi non conosciamo ecco che noi diveniamo anche l'altra parte comprendere l'altro è fondamentale per capire noi stessi quindi non c'è un rapporto di divisione in altre parole molto semplicemente studiando gli alieni a un certo punto abbiamo detto fermi prima di studiare gli alieni di andare avanti dobbiamo capire chi siamo noi oppure studiando gli alieni abbiamo capito che gli alieni cercavano una cosa su di noi che noi non sapevamo neanche di avere cioè li abbiamo guardati a specchio e nello specchio alieno ci siamo ritrovati come noi eravamo in realtà una parte animica mentale e spirituale che sì ora che abbiamo la consapevolezza e la coscienza di questo fatto ritroviamo nel mito ritroviamo nella fisica quantistica ritroviamo in tutte le espressioni della realtà di tutti i giorni ma che prima non potevamo vedere perché perché se tu non vedi una cosa non è che la cosa non esiste è che non ne hai consapevolezza e coscienza grazie grazie Grazie.